Notizie di tecnologia. Cinque incredibili scoperte segrete nascoste nella storia italiana. Ciao a tutti! Pronti a scoprire segreti tecnologici nascosti nella nostra storia italiana? Oggi vi portiamo in un viaggio affascinante attraverso cinque scoperte straordinarie, frutto dell'ingegno italiano, che hanno lasciato un segno profondo nel mondo della tecnologia. Oggi esploreremo cinque incredibili scoperte tecnologiche segrete che hanno avuto origine in Italia. Queste invenzioni, spesso ignorate, hanno contribuito enormemente al progresso scientifico e tecnologico globale, dimostrando il genio e l'innovazione italiana. Cominciamo con la prima scoperta, l'antenato del moderno computer, creato da un genio italiano. Questa straordinaria invenzione ha gettato le basi per i calcolatori che oggi utilizziamo quotidianamente, mostrando come l'Italia sia stata all'avanguardia anche in questo campo. Parliamo di Giovanni Poleni e della sua macchina per calcoli. Questo straordinario dispositivo, ideato nel XVI secolo, rappresenta uno dei primi tentativi di automazione del calcolo, un'innovazione che ha anticipato di secoli lo sviluppo dei computer moderni. Passiamo alla seconda, una straordinaria invenzione legata alla crittografia. L'Italia ha dato un contributo fondamentale anche in questo campo, rivoluzionando il modo in cui proteggiamo e scambiamo informazioni cruciali, un aspetto fondamentale nella nostra era digitale. Leon Battista Alberti rivoluzionò la crittografia con il suo disco cifrante. Questo strumento permise di cifrare e decifrare messaggi in modo innovativo, gettando le basi per la crittografia moderna e influenzando profondamente la sicurezza delle comunicazioni. Il disco cifrante di Alberti era composto da due dischi concentrici, uno dei quali poteva ruotare. Questo meccanismo semplice ma efficace consentiva di creare codici complessi, rendendo i messaggi cifrati molto più difficili da decifrare senza la chiave appropriata. Passiamo ora a un'altra scoperta straordinaria, il contributo di Antonio Pacinotti al mondo dell'energia. Pacinotti fu un pioniere nel campo dell'elettromagnetismo e la sua invenzione della Dinamo ha trasformato il modo in cui produciamo energia elettrica. La Dinamo di Pacinotti, una macchina che converte energia meccanica in energia elettrica, fu un'innovazione fondamentale. Questa invenzione aprì la strada allo sviluppo di generatori elettrici moderni e fu cruciale per l'evoluzione delle tecnologie elettriche. Un'altra invenzione che ha cambiato il mondo è quella di Guglielmo Marconi, la radio. Marconi riuscì a trasmettere segnali senza fili su lunghe distanze, rivoluzionando le comunicazioni e ponendole fondamenta per tutte le tecnologie wireless che utilizziamo oggi. Il lavoro pionieristico di Camillo Golgi ha rivoluzionato la medicina moderna. Le sue ricerche sul sistema nervoso hanno permesso di comprendere meglio la struttura e il funzionamento del cervello, aprendo la strada a nuove terapie e tecniche diagnostiche. Le scoperte di Giovanni Poleni, Leon Battista Alberti, Antonio Pacinotti, Guglielmo Marconi e Camillo Golgi hanno trasformato il mondo in modi inimmaginabili. Questi geni italiani hanno dimostrato come l'innovazione possa nascere da un mix di ingegno, passione ed edizione. Le innovazioni italiane hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia della tecnologia. Le loro invenzioni non solo hanno risolto problemi del loro tempo, ma hanno gettato le basi per future scoperte e sviluppi tecnologici che continuano a influenzare le nostre vite. Le invenzioni di questi straordinari individui hanno avuto un impatto globale. Dalla crittografia alla radio, dalle macchine per calcoli alla dinamo, il mondo intero ha beneficiato del genio italiano, migliorando la qualità della vita e l'efficienza tecnologica. Pensiamo a quanto la storia italiana sia ricca di talenti e innovazioni. Le scoperte di questi geni non solo hanno segnato un'epoca, ma continuano a ispirare nuove generazioni di inventori e scienziati in tutto il mondo. Pensiamo a quanto la storia italiana sia ricca di talenti e innovazioni. Questi geni non solo hanno cambiato il loro tempo, ma continuano a influenzare le generazioni future con le loro straordinarie scoperte e invenzioni. Vi incoraggiamo a fare ulteriori ricerche su questi incredibili personaggi. Approfondire la loro vita e le loro opere vi farà apprezzare ancora di più il contributo italiano al progresso tecnologico globale e al miglioramento delle nostre vite quotidiane. Molte delle tecnologie che usiamo oggi hanno radici in queste scoperte. Dalla crittografia alla radio, passando per il sistema nervoso, l'impronta italiana è evidente e ci accompagna in ogni momento della nostra vita. Grazie per averci seguito in questo viaggio nella storia della tecnologia italiana. È stato un piacere condividere con voi queste storie affascinanti e scoprire insieme il brillante passato che ha plasmato il nostro presente. Non dimenticate di mettere like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Vogliamo continuare a portarvi contenuti interessanti e scoprire insieme le meraviglie della tecnologia e della storia italiana. Alla prossima, ciao! Restate sintonizzati per altre incredibili scoperte e storie affascinanti. Grazie per il vostro supporto e la vostra curiosità. La conoscenza è un viaggio senza fine e siamo felici di percorrerlo con voi.